Sicuramente in Puglia c'è un importante sistema di controlli anche interistituzionale perché noi collaboriamo stabilmente con le capitele di Porto, addirittura i campioni facciamo con la Guardia di Finanza quindi poi noi diamo la qualità scientifica, lavoriamo sul mare tutto l'anno, lavoriamo in mare quando andiamo a fare i campioni in laboratorio quando andiamo ad analizzare, quasi 9.000 determinazioni analitiche all'anno e poi vorrei dire anche in fase di prevenzione perché nelle conferenze di servizi, nelle autorizzazioni cerchiamo di essere molto rigorosi perché questo consente poi di esercitare quel fenomeno di prevenzione che è uno degli obiettivi fondamentali perché con la sola repressione, con i soli controlli noi possiamo migliorare ma non possiamo confermarci stabili come in questi tre anni se c'è un'intera strategia che porta avanti a tutti i livelli, migliorare la depurazione, aumentare i controlli e intervenire nella fase autorizzativa per fare in modo che gli investimenti ci siano ma siano sempre sostenibili. Strategicamente abbiamo voluto realizzare un centro mare che plasticamente è una sede diversa da quella della direzione generale perché noi vogliamo che su questi temi ci sia un'identità chiara dell'agenzia perché riteniamo che il mare debba essere al centro delle politiche ambientali pugliesi ed evidentemente anche di quelle economiche perché i riflessi sul turismo, sull'economia blu sono tantissimi e avere più informazioni significa poter assumere più decisioni, avere migliori informazioni significa poter assumere migliori decisioni in questo aspetto alla politica. C'è ancora qualche zona critica? Non ci sono zone critiche in Puglia, ci sono zone dove la qualità è buona e non è eccellente come in altri ma è buona e sono baneabili perché la Puglia ha comunque una grande estensione che quindi su 800 km di coste destinate alla baneazione ci sia qualche caso in cui è buona non è eccellente, non ci deve certamente preoccupare più di tanto, tutti noi vorremmo arrivare al 100% intanto confermiamoci primi magari per il quarto anno di seguito, è già un grande risultato poi se arriviamo al 100% la sorpresa che farà piacere a tutti.